È nata a Bisceglie il 6 aprile 1990, ma ha già macinato tanti chilometri e moltissimo successo, testimoniato dai premi vinti in diversi contesti. È la cantautrice Erika Mo, che si esibita a Campobasso all'interno della manifestazione Giovani, giovanotti e giovinastri, organizzata dopo alcuni anni di assenza nei locali dell'ex Omni. Musica, mostre, dibattiti, rassegna cinematografica, artigianato e mercatini, DJ set, Il tutto, come hanno sottolineato gli organizzatori, autofinanziandoci. Cinque le giornate dedicate alla cultura e che si concluderanno sabato. Ospite della seconda serata Erika Mo, che si esibita con il maestro jazz Mirko Signorile. Un duo al quale abbiamo lavorato per questo concerto particolare. Io suonerò il Fender Rhodes, che è uno strumento che si suonava molto negli anni 60, con una serie di effettini come il distorsore, il tremolo e il delay. Erika appunto userà anche la sua chitarra, quindi una cosa molto particolare dal punto di vista del suono, della sonorità soprattutto. Tanta emozione per la giovane cantautrice italiana che si esibita a Campobasso. La prima volta che io condivido il palco con Mirko, anche se in realtà poi lui è una delle primissime persone, uno dei primissimi musicisti che io ho conosciuto veramente appena ho cominciato ed è stato sempre un riferimento, perché è un musicista pugliese che, insomma, si è fatto un suo nome e che io ritengo bravissimo. E dei premi vinti nei sette anni di carriera musicale, Erika ricorda quello vinto a giugno come miglior canzone originale Davide di Donatello. Quest'anno c'è stata una mia canzone che si chiama Dove cadono i fulmini nel film di Rocco Papaleo, una piccola impresa meridionale e siamo stati candidati come migliore canzone originale all'interno appunto dei Davide di Donatello, quindi è stata una bella soddisfazione e vedremo. Grazie. Grazie.